Si stringono sulla memoria dell'Olocausto le relazioni fra Israele e Germania, con la visita ufficiale del presidente israeliano Isaac Herzog a Berlino. Ha parlato al Bundestag, il Parlamento tedesco. Solo attraverso l'incontro, l'approfondimento delle relazioni, il costante impegno reciproco per la libertà, l'umanità, la democrazia, solo attraverso una fedeltà incrollabile alla libertà e alla sicurezza dello Stato di Israele e al benessere del popolo ebraico, entrambi i popoli assicureranno il senso delle commemorazioni, come esempio per l'umanità intera. Successivamente Herzog ha visitato il Memoriale dell'Olocausto a Berlino, accompagnato sempre dal suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, prima di recarsi per un'altra cerimonia presso i resti del famigerato campo di concentramento di Bergen-Belsen. Le commemorazioni 2022 giungono in coincidenza col cinquantesimo anniversario del massacro degli atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco 1972. Steinmeier aveva chiesto perdono per i molteplici errori della Germania al momento della strage.